Ok amici e famigliosi, bentornati in questo nuovo video Oggi, come ogni giovedì, siamo su Geometry Dash Come ogni santo giovedì che si rispetti sulla faccia della terra Oggi, come potete vedere, non siamo sul livello che ho completato qualche giorno fa in live Ma siamo su Geometry Dash in genere Perché oggi cosa faremo? Andremo a provare un nuovo format Ovvero quello dei livelli commentati Cioè non faccio vedere solo io che completo i livelli Ma li commentiamo assieme Negativare, mi ispira proprio dall'interno ragazzi Qui era richiesto un 5, è uscito da una settimana Quindi ragazzi, allora, semplicemente vi voglio dire che per questo format Ho leggermente copiato un youtuber spagnolo di nome Guiterino Styles Ma proprio leggermente, cioè lui fa i demon, io non ne sono capace Comunque questo creatore è V-less, non l'ho mai sentito Infatti credo sia il suo primo livello Ah no, non è il suo primo livello Rated Andiamo a farci una pratica di questo livello Che promette abbastanza bene Ok Come potete vedere è tornato il vecchio coso Scritto e incomprensibili Va bene, mi è costato 43 che è già tanto Quindi Direi di cominciare con il primo tentativo Va bene Ok Oh che me lo aspettavo, stavo cercando di capire come si prende quella moneta A fidarmi tutti Benissimo Ah me lo aspettavo, me lo aspettavo ragazzi, me lo aspettavo veramente Me lo aspettavo, me lo aspettavo Sinceramente me lo aspettavo Mi sta costando tanto 51 tentativi Urgugeno Cosa ho fatto per morire lì ragazzi? Non l'ho capito Non lo so E vabbè Vabbè Giusto che mia sorella ha rotto un bicchiere Ma perchè? No basta morire al 94% Facciamo così Io non prendo la terza moneta Mi ispira proprio dall'interno ragazzi E poi Oh Ho 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 Grazie a tutti. Sì! Sì! Questo non è art 5, questo è art 6. Quanto mi è costato? Quanto mi è costato, Dio Giano? Porco, Dio Giano se mi è costato tanto. Dio Giano se mi è costato, Dio Giano se mi è costato tanto. Io vi dico ciao!